Dopo l'incendio sullo SS19 Eboli Battipaglia sono stati a posti dei semafori, ma dei ladri hanno rubato le pile. Gli impianti semaforici servivano per alternare il transito, visto che la parte destra della carreggiata è pericolosa dopo il vasto incendio delle scorse ore. Ieri, dopo il furto, si sono registrati incidenti e traffico in tilt sullo SS19 al chilometro 4 più 600, dove i cantonieri dell'ANAS hanno creato una strettoia semaforizzata per rimuovere quello che è rimasto dell'incendio dell'altro ieri. Probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì, i gnoti hanno asportato le batterie dei semafori, facendoli funzionare non più in modo sincronizzato. Infatti i semafori, come riscontrato dai caschi bianchi del comandante Mario Dura, avevano luce verde su entrambe le corsie di marcia, cosa che ha causato diversi incidenti, fortunatamente non gravi, grazie al pronto intervento della Polizia Municipale. Dopo il ripristino dei tecnici dell'ANAS nel primo pomeriggio di ieri, i semafori hanno ripreso a funzionare in modo non sincronizzato. Due pullman si sono toccati con gli specchietti. Poi però il tutto si è regolarizzato dopo il lavoro sul posto degli agenti della Polizia Locale, che è stata impegnata per regolarizzare il traffico. Si spera che in queste ore la parete rocciosa venga messa in sicurezza ed i semafori rimossi. Intanto anche questa mattina si procedeva con i due impianti semaforici.